È un'iniziativa dell'Associazione Allevatori e di alcune cooperative di produttori di latte e di allevatori, quindi è una cosa di una importanza fondamentale che i siciliani devono apprezzare e sostenere e aiutare, anche perché gli conviene, conviene per 10.000 ragioni diverse. Cosa succede? Noi beviamo latte fresco importato, sarà Granarolo piuttosto che altra marca è importante o meno, si tratta di latte molto spesso importato da altri posti, o comunque latte talvolta siciliano, talvolta no, e comunque lo paghiamo 1,50 euro, mettiamo 1,60 euro quello che è, mentre la produzione siciliana in questi anni si è contratta enormemente, perché non abbiamo saputo vendere il nostro prodotto. Ora cosa succede? C'è un latte fresco che si chiama latte fresco siciliano, c'è un formaggio di latte ovino, che si chiama morbido, una specie di Filadelfia, che consentono di pagarlo di più ai produttori, agli allevatori, una decina di centesimi in più e di venderlo di meno negli esercizi commerciali, soprattutto deve darci una mano la grande distribuzione, a cui abbiamo consentito di colonizzare il territorio siciliano, o ha consentito una politica sbagliata, che si è illusa di poter controllare un poco di centinaia di posti di lavoro, ignorando che al tempo stesso se ne perdevano migliaia dei piccoli esercizi commerciali sono stati costretti a chiudere, ora o la grande distribuzione favorisce il prodotto siciliano in generale, perché si comincia con il latte, ma non possiamo restare fermi al latte, oppure non avrà il governo regionale indifferente, nel senso che il governo regionale dovrà dargli addosso, ma nell'interesse della Sicilia c'è poco da fare, cosa succede? Succede che il latte fresco siciliano se venisse usato tutto come latte fresco e non per fare ad esempio i formaggi o la ricotta o quant'altro, non basterebbe a coprire il 25-30% di quello che in Sicilia si consuma, se questa operazione funziona non soltanto si potrebbe assorbire tutto questo latte, ma si potrebbe incrementare l'allevamento delle vacche e delle pecore di altre 4 volte di più, senza parlare del resto e cioè di quello che serve, quindi 5 volte, 6 volte di più per fare i formaggi ad esempio, il nostro è un latte più nutriente, di qualità migliore in poche parole, piuttosto che quello importato da fuori, moltiplicare per 4 volte, visto che conviene la produzione di latte e gli allevamenti vuol dire migliaia di posti di lavoro e vuol dire benessere per i siciliani, questa ricetta dovrà essere sostenuta perché comprando latte fresco siciliano si deve risparmiare ma si dà una mano alla nostra economia, non vedo perché dobbiamo comprare la marca estera o la marca milanese piuttosto che romagnola o veneta, sarebbe contro i nostri interessi, contro gli interessi dei nostri figli e dei nostri fratelli, uno, questa ricetta si deve applicare per la pasta, per il pane, per l'olio siciliano, per tutto quello che noi producevamo, che oggi non produciamo perché non conveniva più, quindi deve essere conveniente e deve portarci a produrre di più, cioè a creare più lavoro e più benessere in Sicilia, questo governo di tecnici, di cui si dice più male che bene, per difendere l'interesse del produttore siciliano, anche a costo di scontrarsi con altri grandi colossi e grandi interessi forti, ha fatto una cosina da niente, che sembra una cosa da niente, ma che se attecchisce dobbiamo farla funzionare e se si moltiplica per tutti i prodotti di un'agricoltura che è considerata quella che mette in campo i prodotti di qualità migliore, si tramuterà in una occasione di sviluppo straordinaria, oggi abbiamo cominciato ed è un buon inizio.